I DIR non sono semplicemente una sigla ma uno strumento estremamente importante. Sì, il DIR è uno strumento organizzativo che serve a rispondere ad una richiesta della nostra regione, garantire la stessa qualità, la stessa opportunità ai bisogni di salute a tutti i cittadini liguri ovunque essi si trovino. Il DIR quindi è un'organizzazione che fa cooperare in senso reale tutti i professionisti della sanità che si occupano di un particolare ambito della Liguria, in modo semplice ma molto efficace, mettendo a fattor comune le grandi competenze e professionalità che esistono e facendo sì che tutti i cittadini liguri ne possano fruire. Questo è l'obiettivo. Importante, ad esempio, in percorsi particolari come quelli dei pazienti affetti da problemi cardiaci. Sì, è importantissimo. Quando abbiamo un evento cardiaco abbiamo sicuramente la risposta sanitaria puntuale a risolvere l'evento, un infarto. Ad esempio, le nostre strutture sanno prenderci in carico nei tempi giusti e con le modalità giuste e ci restituiscono ad una condizione di vita dignitosa. Il problema è che va mantenuta dopo e quindi ad un successo di un evento sanitario deve corrispondere un percorso di accompagnamento che dura tutta la vita e quindi tantissimi anni. E questa è la vera sfida dell'incontro di oggi.